Musica Funivia dal 21 giugno il perito studierà cellulari e PC sequestrati, oggi gli avvocati in procura, tra loro anche il legale del piccolo Eitan. Senza esito le ricerche di Enrico Ferrazzi, l'uomo di 65 anni e di Cardano al campo, disperso da due giorni in Val Grande. Da oggi il Piemonte è zona bianca, abolito il coprifuoco, consentite le feste dopo le cerimoni civili e religiose, ma con Green Pass. Un segnale di ripartenza e un servizio importante per un territorio di montagna, a Germania e Vallestrona aperta una nuova bottega. Inaugurato il nuovo mezzo dell'ambulanza del Vergante, ricordate tutte le vittime della pandemia. Calcio il Gozzano con il pareggio 1-1 ad Imperia, ritrova la Lega Pro con tre giornate d'anticipo. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, in primo piano ancora la tragedia della funivia del Mottarone. Le parti convocate questa mattina in procura per il conferimento dell'incarico al perito, che dovrà analizzare cellulari, computer e supporti informatici. Inizieranno lunedì 21 giugno gli accertamenti del perito nominato dalla procura sui cellulari e supporti informatici, tra i quali la cosiddetta scatola nera sequestrati dai carabinieri. Il compito è stato affidato all'ingegnere Michele Vitiello di Brescia, informatico forense. Avrà 90 giorni di tempo per consegnare la sua relazione, ma alcune risultanze potrebbero arrivare anche in tempi più brevi. Il tecnico avrà il compito di eseguire la coppia forense dei dati di computer, telefoni e altri supporti informatici sequestrati. Tra questi ci sono i cellulari sequestrati da Gabriele Tadini, Luigi Nerini ed Enrico Perocchio e un'altra persona che al momento non risulta iscritta al registro degli indagati. Il procuratore capo Limpia Bossi ha chiarito che la cosiddetta scatola nera della funivia non sarà oggetto degli accertamenti tecnici irripetibili. Si tratta di un software che potrebbe aver registrato dati relativi al funzionamento della funivia e che al momento è ancora in uno dei computer all'interno della sede sulla quale la procura ha posto i sigilli. Dopo il conferimento dell'incarico al perito, riunione in procura con i carabinieri coinvolti nelle indagini per fare il punto della situazione anche in vista dell'incidente probatorio che il GIP ha fissato per il prossimo 8 luglio. Nuovi indagati potrebbero arrivare quindi nelle prossime settimane e comunque entro il 6 luglio termine fissato dal giudice per le notifiche alle parti che avranno diritto di partecipare all'incidente probatorio. I legali dei tre indagati hanno nominato i propri consulenti. L'avvocato di Gabriele Tadini, Marcello Perillo, ha dichiarato di riservarsi di chiedere l'incidente probatorio per l'analisi della scatola nera. E questa mattina, per la prima volta, sono arrivati a Verbania anche alcuni degli avvocati delle parti offese, i familiari delle 14 vittime e del bimbo sopravvissuto alla tragedia. Speriamo che questa cosa abbia un impulso veloce perché mi pare che la situazione sia già matura e voglio evitare altre sofferenze ai parenti di queste persone che sono morte. Si spera che da cellulari e computer possano emergere novità importanti. Potrebbero indicare quali sono i rapporti con le ditte preposte alla manutenzione, potrebbero svelare quali sono altri rapporti, non sappiamo nulla di tutto questo. Quindi oggi ci limitiamo a sentire il perito. L'avvocato Sarno rileva anche un possibile problema giuridico in caso in cui venisse ipotizzato un reato doloso, le assicurazioni potrebbero non risarcire le vittime. Nei reati dolosi, in questo caso il confine è molto sottile tra la colpa cosciente e il dolo eventuale. Se si dovesse trattare di un reato doloso, probabilmente le assicurazioni faranno qualsiasi cosa per non pagare. Se invece si tratta di un reato colposo, cioè se la colpa è grave, quindi l'evento era stato previsto ma con la certezza che non si sarebbe verificato, la certezza erronea per negligenza, per imprudenza o per imperizia, in quel caso le assicurazioni ne rispondono. Ecco perché io preferisco che venga contestato il reato colposo, anche se, certo, è brutto dirlo, la soddisfazione di veder condannare chi ha commesso una cosa così grave potrebbe essere importante. Ma ripeto, la giustizia non è una vendetta. Risposte importanti potrebbero anche arrivare dalla cosiddetta scatola nera della funivia, spiega l'avvocato Armando Simba, rilegale di Eitan. È stato sequestrato e il consulente nominato dovrà verificarne la natura, l'entità, la portata, la rilevanza probatoria. Noi siamo convinti che faranno tutto nel rispetto delle regole, delle procedure e con le tempistiche adeguate a questa vicenda. Eitan in questo momento è con la famiglia, quindi la famiglia si stringe intorno ad Eitan e noi ci occupiamo del fronte del processo, delle indagini e facciamo quello che è nostro compito fare per Eitan e per la sua famiglia qui in questa sede. L'avvocato Federico Sinagra, legale di alcuni familiari di Eitan, parla del dolore che sta vivendo la famiglia. Non stanno bene, se parliamo dei familiari, non stanno bene, sono ovviamente sconvolti perché alcuni hanno perso un familiare, c'è chi ne ha persi, insomma c'è chi ha perso tutta la famiglia. E sulla scatola nera e sulle responsabilità nella vicenda dichiara? Io credo che le responsabilità penali siano evidenti, il compito della procura, e il compito difficile della procura sarà quello di capire come dividere queste responsabilità penali. Quindi non siamo assolutamente preoccupati e credo che tutta questa attività sui telefoni in sequestro, sui pc in sequestro, serva a questo, a capire esattamente come dividere le responsabilità penali. Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che ci siano delle responsabilità e che il processo, l'eventuale processo, si possa chiudere con delle sentenze di condanna. È necessario provare a rimettere in moto l'economia del Mottarone falcidiata dall'incidente della funivia. Mentre la magistratura prosegue l'indagine, le attività produttive e locali dovranno poter ripartire e per farlo servono azioni efficaci e rapide e la collaborazione delle istituzioni a tutti i livelli. Lo dichiarano Enrico Montani e Alberto Preioni all'indomani della visita che sabato hanno compiuto al Mottarone insieme all'onorevole Alberto Gusmeroli, al sindaco di Stresa Marcella Severino e agli operatori del settore locale. Al Mottarone è complice l'emergenza pandemica, si registra un calo del fatturato che raggiunge picchi dell'80%, dicono i rappresentanti della Lega. Per quanto riguarda la vetta sarebbe importante dare vita ai venti in grado di attirare le famiglie e i visitatori e sarà inoltre necessario sbloccare la situazione di Alpiland. Evidenziata anche la necessità di trovare soluzioni alternative per giungere in vetta e tra queste il libero accesso alla strada privata dei Borromeo, l'utilizzo dei parcheggi ora non aperti al pubblico e la creazione di nuova cartellonistica. Sono continuate anche per tutta la giornata di oggi, ma senza esito, le ricerche dell'uomo di Cardano al campo disperso da sabato in Valgrande. Sono continuate oggi per tutta la giornata in Valgrande le ricerche di Enrico Ferrazzi, ma senza esito. Nessuna traccia dell'uomo di 65 anni di Cardano al campo disperso da due giorni. È partito sabato mattina da Cicogna, dove ha lasciato l'auto parcheggiata e si è diretto a Pian di Boit. In serata non è rientrato e la famiglia ha fatto scattare l'allarme. Subito è attivato il protocollo di ricerca persone scomparse. Se qualcuno l'ha visto, si mette in contatto con i carabinieri. Ultimo avvistamento sabato a Pian di Boit alle 17.30. I familiari hanno trascorso qui la notte passata e stanno seguendo da vicino le ricerche. In mattinata anche una cabina di regia in prefettura Verbania. Dicevamo, per tutta la giornata odierna una trentina di persone hanno battuto nuovamente tutte le zone e i sentieri attorno a Pogallo e Cicogna. C'erano il soccorso alpino civile con unità cinofile da superficie, il SAGF, i vigili del fuoco con elicottero, droni e con un dedalo, apparecchio in grado di captare e localizzare segnali cellulari. C'erano i carabinieri forestali del parco e i carabinieri in congedo con un cane molecolare. Purtroppo nessuna traccia è emersa. Si sta ora cercando di stendere una tabella con la cronologia dei movimenti di Enrico Ferrazzi. Le ricerche sono state interrotte nel tardo pomeriggio e riprenderanno domani mattina. Un cinquantenne di Lese deceduto stamani, 15 giorni fa, aveva fatto il vaccino Pfizer ad Arona. Si chiamava Massimiliano Marcacce, abitava con la famiglia Lese, era stato vaccinato domenica 30 maggio. Attorno al 7 giugno ha iniziato ad accusare dolori alle ossa e un respiro affannoso. Stamattina attorno alle 6 espirato il 30 maggio, poco dopo le 15, ad Arona al Palagrini era stato vaccinato. Anche Andrea Pirali, 51 anni, morto un paio d'ore dopo nella sua abitazione di Mercurago. Anche lui era stato somministrato Pfizer. In quel caso l'autopsia aveva confermato l'arresto cardiaco. Bisogna capire anche in questo caso se ci sono analogie tra il vaccino ricevuto 15 giorni fa e il decesso. Il Marcacce era agente di commercio, la vittima lascia la moglie e tre figlie piccole. Di quanto accaduto si sta occupando la procura della Repubblica di Verbania. Da oggi il Piemonte è zona bianca, niente più coprifuoco. Resta l'obbligo delle mascherine anche all'aperto e del distanziamento. Da oggi Piemonte e quindi anche il VCO in zona bianca. La prima e forse più attesa novità è l'abolizione dopo oltre 220 giorni del coprifuoco. Nelle regioni bianche è ora possibile circolare liberamente anche di notte. Consentito lo spostamento pure verso località in zona gialla, senza dover giustificare il motivo dello stesso, ma nel rispetto delle norme vigenti in quella determinata area. Riaprono piscine e centri termali anche al chiuso. Tornano ad aprire battenti le discoteche, ma senza la possibilità di balli in pista, e ancora ripresa per fiere e centri congressuali, stadi e palazzetti. In bar, ristoranti e nelle altre attività di ristorazione è possibile consumare cibi e bevande all'interno, senza limiti orari. Le nuove regole prevedono che in zona bianca, all'aperto, non ci siano limiti di persone ai tavoli, tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di un metro, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone, salvo che siano tutti conviventi. L'elenco delle attività che possono riprendere comprende pure le feste, anche conseguenti a cerimonie civili o religiose, all'aperto e al chiuso, ma con Green Pass, ovvero con una certificazione che segnala l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid oppure l'avere effettuato un tampone negativo nelle ultime 48 ore. E poi via libera alla ripresa di sagre, sale gioco, palestre con uso di spogliatoi e docce, senza vincoli le visite ad amici e parenti. Restano il divieto di assembramento e l'obbligo di mascherina, sia all'aperto sia al chiuso. Al massimo due le persone non conviventi che possono viaggiare insieme in auto. La superstrada è sicura, lo chiede l'assessore ornavassese Marco Kregar. Sulla pagina Facebook del Comune, alla luce dei ristringimenti di corsie uniche, è obbligo di distanziamento di 80 metri tra i veicoli. Parla delle conseguenti code con disagi per i residenti e i turisti, scoraggiati dal voler tornare in ossola. Ma a preoccupare Kregar sono soprattutto i motivi alla base di queste prescrizioni. Chiede, vorremmo che ANAS facesse chiarezza e ci rassicurasse i viadotti della superstrada, sono sicuri? Perché tutte queste misure per evitare di caricare peso sui viadotti? E ancora scrive, se sono stati introdotti questi accorgimenti, è evidente che chi ha la responsabilità della sicurezza è quanto meno preoccupato dalla situazione che la tragedia del Ponte Morandi e quella del Mottarone siano di insegnamento. Se la superstrada non è sicura, allora meglio chiuderla. Se è necessario mantenere il distanziamento, allora che si trovi il modo efficace per farlo rispettare. Soprattutto che non si aspetti e si faccia subito la manutenzione necessaria. Vogliamo viaggiare tranquilli. Sul tema ha intervenuto il senatore leghista Montani. Mi interesserò, dice, per capire se l'allarme lanciato in queste ore relativamente alla superstrada sia fondato o meno. Andiamo a Omegna. A Sinistra Comune critica la gabbia in Lungolago Gramsci. Critiche anche per la questione relativa al depotenziamento del 118. Deve ancora essere terminata, ma fa già discutere. Non piace a Sinistra Comune l'installazione scenografica in Lungolago Gramsci, voluta dall'amministrazione Marchioni. Una gabbia metallica di ferro, sottolinea Mimma Moscatiello, del valore di ben 26 mila euro, fatta per nascondere solamente 10 metri di auto parcheggiate. Per non parlare poi delle cameglie estirpate che sono state donate alle frazioni e che sono sopravvissute una settimana prima di perdere foglie e di rinsecchirsi. A nostro giudizio era decisamente meglio utilizzare quei 26 mila euro per la manutenzione del verde pubblico in tutta Omegna, mantenendo più ordinate e pulite le aree verdi della città piuttosto che ingabbiare la passeggiata sul Lungolago. Siamo disarmati dalla incapacità di gestire la cosa pubblica di questa amministrazione, incalza l'esponente di Sinistra Comune. Sinistra Comune che va all'attacco anche del sindaco Marchioni per le ultime esternazioni sul 118. Forse Marchioni non sa, ironizzano ancora gli esponenti della Sinistra Comune, che l'assessore regionale alla sanità è Icardi ed è del suo stesso partito. Dunque, se deve arrabbiarsi per la paventata riduzione del servizio del 118 a Domenia e nell'accusio, non ha che alzare il telefono e chiamare il suo collega leghista a Torino. Ed ora un bel segnale di ripartenza che arriva dalla Valle Strona. A Germania è stata inaugurata una nuova bottega di paese. Si parla molto di salvaguardare alla montagna le piccole comunità, però negli ultimi decenni ormai purtroppo le piccole comunità e i piccoli paesi vanno sempre più spopolandosi, anche per mancanza di servizi. Beh, Germania c'è una famiglia, la famiglia Cerini, che sta andando in controtendenza e così Sara Cerini, con la collaborazione anche delle figlie, ha voluto aprire nel suo paesino, che non fa neanche 200 abitanti, un negozio. Arianna, la vostra, quella di tua mamma, della tua famiglia, è un po' una scommessa? Abbiamo deciso di intraprendere questa attività, appunto, prima di tutto per realizzare il sogno di mia mamma. Quindi abbiamo aiutato noi come famiglia e come seconda cosa molto importante è quella di non fare morire i nostri paesi piccoli e quindi di far diventare questo un punto di riferimento e un punto di ritrovo anche per le persone del paese. Arianna, nel vostro piccolo negozio, però, ci sono anche tanti prodotti, anche dell'artigianato e anche della tradizione enogastronomica, gastronomica soprattutto, locale di Germania e della Vallestrona. Abbiamo, appunto, dei prodotti alimentari dei frati qui sopra noi, all'Alpeggio Colla e poi abbiamo anche dei prodotti artigianali, soprattutto in legno, della nostra valle. Ho visto che c'è anche una macchina del caffè e un tavolino con delle sedie fuori. Sì, appunto, vogliamo offrire il caffè e le persone dovrebbero venire a farlo da sole e poi si possono riunire sul tavolino, appunto, un punto di ritrovo, soprattutto per noi del paese. L'inaugurazione di un piccolo negozio, per quanto piccolo, ma in una comunità come Germania, alle porte della Vallestrona, è sempre un evento importante? Assolutamente sì, specialmente in un momento come questo, dove arriviamo da un anno e mezzo di una situazione impensabile e dove si vede un attimo di ripresa, bisogna dar atto a questa iniziativa della Sara, che poi è la moglie del sindaco, che ha voluto rilanciare in questo piccolo paese una realtà operativa che, più che altro, ha carattere sociale. Ed ora il taglio del nastro del nuovo mezzo dell'ambulanza del Vergante e nel corso della cerimonia sono state ricordate anche le vittime della pandemia. Oggi è una giornata molto importante per l'ambulanza del Vergante. Abbiamo inaugurato un mezzo acquistato completamente con i fondi del 5x1000 per il trasporto disabili e per pazienti autosufficienti Covid, dal valore di quasi 40.000 euro e abbiamo ricordato tutte le vittime della pandemia, di tutta la popolazione che è stata colpita da questo terribile virus e abbiamo potuto anche ricordare tutti i nostri volontari che ci hanno lasciato in questi anni, in particolare il dottor Forzani Santino, che era il nostro direttore sanitario, che è caduto vittima della pandemia Covid. Ed è stato il momento importante ed emozionante per ringraziare tutti i volontari che si sono occupati in particolar modo in quest'ultimo anno e mezzo di questa pandemia terribile con l'aiuto alla popolazione sia nella parte sanitaria sia di protezione civile sia lavorando con le altre associazioni di volontariato nella sala operativa e sia rendendo al territorio migliaia e migliaia di servizi. È stata veramente una giornata importante per poter dire grazie, per ricordare chi ha lavorato con noi e per stringere ancora di più l'alleanza sul territorio con i sindaci, la provincia, la regione e con la Croce Rossa italiana. La provincia del Vice organizza il lago a tavola per promuovere il consumo del pesce pescato allevato nel territorio in un'ottica di consumo a chilometro zero. L'evento si svolgerà dal 3 al 25 luglio ed è rivolto ai ristoranti e agli esercizi aderenti. Si è richiesto di proporre per tutta la durata dell'evento ai propri clienti almeno un piatto o una preparazione gastronomica a base di pesce di acqua dolce proveniente dal territorio del VCO pescato allevato. Prestarsi a una video intervista sul piatto proposto e poi l'altra condizione. L'evento non è un concorso e non ci sarà alcun giudizio, alcuna premiazione sulle ricette. L'adesione al lago a tavola verrà però pubblicizzata attraverso articoli e video sul sito del progetto adesioni entro il 27 di giugno. Il calcio in apertura di pagina sportiva a un anno solo di Purgatorio. Il Gozzano con il pareggio 1 a 1 a Imperia ritrova la Lega Pro con tre giornate di anticipo. La storia è stata fatta. Il Gozzano per la seconda volta è promosso in Serie C, per la seconda volta è tra i professionisti dopo una sola stagione nel Purgatorio della quarta divisione del calcio italiano. Decisivo l'1 a 1 presso lo stadio Ciccione di Imperia. Andiamo in cronaca. Al quindicesimo doccia fredda nel bollore di Imperia per il Gozzano. Vagge su Maltezzi ma il tapin è preda di Minasso. 1 a 0. Al diciannovesimo Minasso vicino alla doppietta prodigioso. Un super Vagge. Al trentaduesimo il Gozzano replica dopo un po' di tepore. Angolo insidioso di carta. Al trentottesimo Allegretti in vente in verticale. Dani blocca Piraccini. Al trentanovesimo altro angolo di carta. Spizza Allegretti ma Dani abbassa la Sara Cinesca. Al quarantacinquesimo Silla si prende rigore di prepotenza. Allegretti scrive 24 in campionato dal dischetto. Nella ripresa al ventiquattresimo Martelli non c'entra lo specchio. È questo l'unico sussulto di cronaca del secondo tempo. Una ripresa vissuta nell'attesa del triplice fischio. Il ricordo di Alberto Allesina. Il ritorno in Serie C. Le emozioni dentro e fuori dal campo. E mercoledì celebrazioni al Dalbertas contro il Fossano per il Gozzano campione. E del Gozzano si parlerà a Dilettanti per dire che vi aspetta come sempre stasera alle 20.35. Ancora domani martedì alle 13 alle 17. Appuntamento con Dilettanti per dire. Una puntata che sarà quasi interamente dedicata alla festa promozione del Gozzano. Immagini tantissime interviste realizzate da Andrea Calderoni ad Imperia e insieme a uno dei nostri studi Grauco Ramazzotti. Ciao Grauco. Ciao Daniele buonasera a tutti. Fresco di contratto con la Sparta Novara pronto per una nuova avventura. Sì, una bella esperienza, un ritorno a casa e vediamo di gettare le basi per poi fare un campionato importante. Il Gozzano che ha messo la ciliegina sulla torta, una stagione in cui da dicembre, specialmente da dicembre in avanti, ha innestato una barra due marce in più rispetto alla concorrenza degli avversari. Sicuramente sì e poi è bello avere un'altra realtà del nostro territorio che si raffaccia al professionismo. Fa bene a tutti, fa bene a tutto il nostro movimento. E speriamo che il Borgosesi in queste ultime due partite ce la possa fare. Adesso non è più padrone del suo destino, deve chiedere un favore proprio al Gozzano che sfiderà mercoledì il Fossano. Beh, di sorpresa ne abbiamo visto anche ieri, quindi l'importante è crederci. Assolutamente sì, insomma di questo e molto altro. Parleremo anche dell'eccellenza, dell'epilogo imprevisto per l'RG Ticino di un finale in volata in cui la stessa RG Ticino con poche chance e soprattutto Bielese e Borgo Vercelli si giocheranno il titolo e la promozione in Serie D. Non perdetevi dunque, dire tanti per dire. E in chiusura il basket con il bilancio di fine stagione della Paffoni che non nasconde un po' di amarezza. È una stagione che è stata condensata in pochi mesi ma che secondo me per mille motivi e non solo per la Paffoni ne vale tre di una stagione normale. Eh sì, sai quando devi correre dall'inizio per recuperare non hai tempo per alzare la testa e quando come si va sul gavia, sul mortilolo ti dicono testa bassa e pedalare. Noi l'abbiamo fatto, adesso ci sta avvenendo un po' di amarezza che è normale perché quando arrivi a gara 5 è amarezza, un po' di stanchezza ma anche la serenità di aver dato tutto e di aver comunque raggiunto un risultato prestigioso anche alla luce di quella che potrebbe essere una finale in grande equilibrio. Avremmo meritato di esserci però bisogna dare l'onore a chi ha vinto tre volte perché questo è il regolamento e quindi lo accettiamo. Bisogna capire dove mettere le mani per fare un ulteriore salto di qualità pur sapendo che la Paffoni è tanti anni che pur magari raccogliendo poco alla fine però è sempre lì nelle prime quattro, nelle prime due. Qui c'è un tessuto sociale, una forza societaria e un trasporto emotivo che dà continuità e quindi prima o poi ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Ci siamo incontrati poco fa con i ragazzi del roster e dello staff per i saluti del termine della stagione. Io mi sono permesso a nome di tutta la società di esprimere il ringraziamento per il risultato che comunque abbiamo conseguito. Perché se pensavamo dove eravamo la sera del 19 di dicembre mi sembra contro Faenza, a dove siamo arrivati, è stata un'impresa non indifferente. Detto questo è evidente che in questo momento qui avrei preferito essere negli spogliatoi di Chiusi piuttosto che qui sul Lago d'Orta. Però penso che tutto sommato la nostra stagione sia stata positiva anche tenendo in debita considerazione tutte le enormi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. E così chiudiamo questa edizione del nostro giornale vcoazzurativu.it e le nostre pagine social per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie.